Voci.fm, il sito delle voci. Vorrei un appuntamento. Vuoi soluzioni per il doppio mento? No, 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 voglio trovare una fidanzata. Mi sento solo. Capito. Vuoi un cannolo? Se non avete visto i primi due film, non la riconoscerete la voce italiana di Dracula, ovvero Drac, in Hotel Transylvania 3, ultimo capitolo della saga della Sony Pictures Animation, diretto ancora da Jenny Tartakovsky, in sala dal 22 agosto, ma è sempre la sua, quella di Claudio Bisio. E se non ci credete, eccolo in sala di doppiaggio. Realmente stavo pensando che tu e Johnny dovreste stare un po' insieme. Com'è che la chiami? Scusa, è serata romantica? Com'è? Bene. Buona. Ho ancora il bacio, secondo me. Fammi vedere quando lui lo prende in braccio. Ok. Cioè, non fa di lato. Te lo faccio uguale. Papà? Mavis! Sei stressato perché lavori troppo. E io ho una soluzione. Una crociera! Sorpresa! Oh no 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 no! Papà! Perché pur non considerandosi un vero doppiatore, Claudio Bisio non si tira mai indietro davanti a un microfono e a un leggio, sempre felice di prestare la sua voce, per quanto camuffata, a personaggi di film ed animazione, com'è stato per il bradipo Sid nell'era glaciale e com'è di nuovo con Drac in Hotel Transilvania 3, sotto la direzione di Alessandro Rossi. È un piacere dare la propria voce, anche se nel mio caso, come spesso accade nei cartoni animati, in questo caso è molto camuffata, perché parla tutto così, con le dopi, non rispettate, con tutto, sembra una specie di russo, perché è Transilvano, l'abbiamo fatto. E anche l'originale, Adam Sandler, l'attore che lo fa in America, anche lui parla a Ryu, cioè un americano russo quasi, Transilvano per l'appunto, quindi anche la voce, non tutti la distinguono al volo, non tutti riconoscono che sono io. Ormai al terzo film, a meno gli amici lo sanno, però i bambini, figli degli amici lo sanno, sono dei fan. Sì, proprio incredibile, è come un hotel sopra l'acqua. Può essere ancora più distante il fatto che sia una voce camuffata. Eppure la magia di questa cosa qua fa sì che quando se ne accorgono, il direttore di doppiaggio Alessandro Rossi, che è bravissimo, si accorge quando vado un po' di mestiere, di meccanica, o quando ci metto un po' di sentimento, un po' di anima vera. Infatti qualche volta, io devo stare attenti, tutti dobbiamo stare attenti, io poi non sono così bravo, non è il mio mestiere, sono i doppiatori qui intorno, bravissimi, che lo fanno anche come principale attività, che rispetto tantissimo. Voi sapete che noi italiani siamo i più bravi del mondo, io non sono tra questi. Però ci provo, e quindi la grande difficoltà è stare corto, lungo, c'è la Silvia, la nostra segretaria qui, che giustamente corregge, perché poi deve essere tutto verosimile, anche la tecnica. E a volte inseguendo la frase lunga, la frase corta, la cosa, la memoria, guardare il labiale, quello che corrisponde, magari perdo un po', divento un po' meccanico. appena mi dice, guarda che sei meccanico, sei un po' freddo, guarda bene, in questi casi basta guardare in realtà, pur essendo un cartone animato, ahimè, o comunque, non so perché ho detto ahimè, ma pur essendo un cartone animato, se guardi bene la faccia che fa, capisci come devi dire la battuta, cioè che sentimento prova in quel momento, e quindi quando si riesce a dare un'anima anche a una cosa disegnata, pazzesco, bellissimo. Lo sai che odio le sorprese? Questa è una sorpresa divertente. In Hotel Transilvania 3 ce n'è di anima e di sentimenti. Drac, infatti, nel corso della crociera, ovviamente mostruosa, organizzata a sorpresa dalla figlia Mavis, doppiata da Cristiana Capotondi, troverà persino l'amore. Mostruoso pure quello, però. Infine, è più difficile doppiare, quindi recitare soltanto con la voce, piuttosto che anche con il corpo? È diverso, è diverso, un attore lavora con tutto, col corpo, con la voce, in questo caso abbiamo dei disegni già fatti, con un labiale già fatto, che riprende la lingua inglese, quindi è una corsa ad ostacoli, però quando ci riesci è bello, riesci anche a restituire emozioni. Mi è già scappato prima la cosa che questa volta un po' si innamora, quindi ci sono momenti anche melodrammatici, poi con la figlia c'è anche una tristezza, perché non voglio raccontare tutta la storia, ma ha tanti sentimenti molto umani questa volta. Ma per chi siamo su un aereo? Noi sappiamo volare, no? Ho pensato io ad ogni cosa, è ora che tu ti rilassi. Beh, ho avuto un'idea, io e i ragazzi potremmo cogliere l'occasione per passare un po' di tempo con Dennis. Me la fai sentire con la mia voce? Beh, ho avuto un'idea, io e i ragazzi potremmo cogliere l'occasione per passare un po' di tempo con Dennis. Ok. Ciao Voci.fm, sono Claudio Bisio. Ciao. Voci.fm, il sito delle voci.